I personaggi del pastore Faustolo e di sua moglie H. Larenzia sono importanti per capire cosa c'era da queste parti prima della fondazione di Roma. I genitori adottivi dei gemelli sono lo specchio di una realtà confermata dagli archeologi. Sparsi nel territorio laziale c'erano dei piccoli villaggi fatti di capanne abitati dai primi popoli latini. Alcune di queste comunità sono venute a stabilirsi qui attorno sui colli vicini al Tevere. I loro villaggi sono in pratica delle fattorie abitate da famiglie estese che però si sono già date delle regole di convivenza civile. Per esempio seppelliscono i loro morti in zone dedicate, lontane dai luoghi della vita quotidiana. In una di queste fattorie, seguendo il filo tra realtà e leggenda, abitano Faustolo e H. Larenzia o leggenti che hanno ispirato i loro personaggi. Più tardi Varrone avrebbe dato a questo insieme di comunità un nome, Septimontium, i sette monti, da non confondere con i sette colli. Il luogo dove fu fondata Roma fu chiamato Septimontium per la presenza di tanti monti, che poi la città ha fatto propri con le mura. Se si guarda una cartina, si capisce che i sette monti di Varrone occupano solo una parte circoscritta dei sette colli. E si vede anche che le comunità che vivono in alto sui rilievi sono difficili da unificare, perché sono separate da valli paludose che il Tevere allaga periodicamente. Ma la vicinanza del fiume è anche un vantaggio, perché laggiù da quella parte, vicino al posto dove si è arenata la cesta dei genelli, c'è un guado. Il migliore per chi vuole viaggiare lungo la costa tirrenica, per di più il fiume è anche navigabile fino al mare. Quindi questo è un posto di comunicazione ottimo tra i popoli a nord e quelli a sud del Tevere.